Ehi, buongiorno ti ho portato il caffè? Stai ancora dormendo, ma è l'ora di alzarsi. Beh, lo so che è ancora sonno, ma bisogna partire con una nuova giornata. Dai, stropicciati gli occhi e poi dedicati a questo meraviglioso caffè che ti ho appena preparato. Ma certo che parliamo un po', sono venuta apposta per svegliarti e per farti partire bene la giornata. Tu fidati e vedrai che oggi sarà una giornata stupenda e andrà tutto bene. Mi sono seduta qui accanto a te. Tieni, prendi il caffè. È buono. Beh, te l'avevo detto che era ottimo. Chi sono io? Io sono Arasule. Lo so che non mi conosci, ma io sono un po' una fatina. Vado a svegliare le persone che hanno bisogno di un po' di energia positiva, che hanno bisogno di essere rassicurate. Sì, sono in pigiama, certo. Sì, sono anche truccata, certo. Beh, non potevo mica venire con le occhiaie, con la faccia tutta sfatta. Devo metterti di buon umore. Dici che sono truccata troppo per essere di mattina? Ma no, ma perché? E poi io sono un artista, quindi posso fare come mi pare. Allora, vogliamo cominciare questa bella giornata? Come ti senti? Hai dormito bene? Allora, guarda, facciamo un bel respiro, ok? Facciamo un bel respiro. Abbiamo tutto il tempo perché è ancora l'aurora, quindi abbiamo tutto il tempo. Volevi dormire di più? Domani dormirai di più. Oggi ti sveglio io, ti sveglio presto e facciamo una bella meditazione per partire con il piede giusto. No, insomma, meditazione. Non una meditazione vera e propria, eh. No, no, quelle le lasciamo alla sera per addormentarsi. Oh, quando bisogna fare un po' di rilassamento muscolare. Adesso, oh, non lo so, improvviso. Ma vedrai che quando ho finito, sarai felice che ti abbia svegliato così presto. Dai, facciamo un bel respiro. Un bel respiro profondo. E butta fuori tutta l'aria. Quando inspiri, pensa che stai prendendo tutta l'aria del mattino, bella fresca. E stai buttando fuori, invece, tutte le cose che ti hanno fatto dormire male, tutte le preoccupazioni per la giornata di oggi. Dai, facciamo almeno tre respiri insieme, eh. Senti l'aria fresca del mattino. Perfetto. Perfetto, perfetto, perfetto. Ti senti già meglio? Ok, quindi, il caffè lo abbiamo preso. Un po' di respirazione per buttare via i brutti sogni della notte l'abbiamo fatta. Adesso facciamo una magia. Poiché dall'aurora stiamo passando all'alba, togliamo un po' questi colori notturni e cominciamo a scaldare un po' la situazione con dei colori un po' più pieni di sole. Che ne dici? Ok? Ecco qua, abbiamo fatto la magia. Perché all'alba i colori cominciano a scaldarsi un po'. Che ne dici? Ti è venuta un po' voglia di alzarti e di affrontare questa giornata? Ma che preoccupazioni hai? Dimmi un po'. Ma sono tutte cose che si possono risolvere. Devi soltanto trovare un po' di pace, un po' di calma. E devi soltanto avere fiducia nelle tue capacità. Ma certo che sei capace. Guarda, non sarei qui. Se non fossi sicura che sei capace di alzarti e di avere una giornata meravigliosa. Fidati, fidati, te lo assicuro. Certo. Senti, cominciano a svegliarsi anche gli altri, si sente qualche macchina che passa, si sentono gli uccellini che cinguettano. Beh, in realtà gli uccellini cominciano a buio, eh. Eh, hai sentito? Adesso cominciano a muoversi le prime persone. Penso a chi si deve alzare sempre a quest'ora. Tu, invece, hai la fortuna di poter dormire sempre quell'oretta in più. Allora, vediamo un po', dai. Cosa ti preoccupa veramente? Ti ascolto. Va bene. Secondo me ce la puoi fare tranquillamente. Ma facciamo una piccola magia, ok? Io adesso prendo le tue paure di non farcela e le spriciolo. Le facciamo sparire come per magia. Come va? Va già meglio? Vedrai quando ho finito, ti sentirai forte come un leone. Allora, prendiamo, prendiamo, prendiamo. Prendiamo, prendiamo, prendiamo. Prendiamo, prendiamo, prendiamo. Aspetta, aspetta, aspetta. Ecco. Ok, paure, risolta. Adesso non ci resta che prendere un po' di energia. Ma per darti energia farò un'altra magia e illuminerò ancora di più questa stanza. Tu fidati e vedrai che oggi andrà tutto, 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 tutto bene. Nuova magia? Ecco qua. Quello che ci vuole. Un bel colore rosso per dare energia a questa tua giornata. Allora, vediamo. Allora, vediamo un po'. La prendo, la prendo, la prendo, la prendo. E la do a te. E la do a te. Ah, prendo, prendo un po' di energia. E la do a te. Ancora, 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 ancora un po' di energia. Ed ecco qua per te. Ah, energia, 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 energia. La senti? Senti la carica? La senti la carica? Bene, perfetto, 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 perfetto. Ecco qua, ecco qua, ecco qua, ecco qua. Adesso siamo pronti per iniziare la giornata. Abbiamo fatto praticamente tutto. Ti è venuta un po' di eccitazione? Ok, l'ultima magia. E poi me ne vado, eh. Beh, se avrai bisogno tornerò, sì, non preoccuparti. Ok, allora, aggiungiamo un pizzico di calma. Un pizzico, soltanto un pizzico di calma. A tutta l'energia che ti ho dato. Ecco qua, è quale miglior colore dell'azzurro per rilassarsi. L'azzurro è un pizzico di calma. E' un pizzico di calma. L'azzurro mette di buon umore. Tra l'altro, guarda, oggi il cielo è proprio di questo colore. E' una giornata stupenda. Non ti resta che alzarti dal letto e tirare su con la serranda. E poi devi fare una bella colazione. E' fondamentale per partire bene, per avere le energie giuste. Bene, tesoro, io a questo punto vado a svegliare qualcun altro che ha bisogno di me. Sai come fare? Lo puoi fare anche quando non ci sono io. Respiri per buttare via i brutti sogni. Sbricioli le cose che ti fanno preoccupare e che ti aspettano in questa giornata. Raccogli l'energia dell'universo. E poi non ti resta che partire per una nuova giornata. Ciao tesoro. Ciao, ciao, ciao. 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 Ciao, ciao.